Al mio 3 vi farò una imitazione del simpatico Klaus Davi, questo famoso personaggio che appartiene alla tv italiana, il quale, se non erro, è anche un mass-mediologo. Bando alle ciance, questo è un video ovviamente omaggio, di stima nei suoi confronti, non è un video di offesa o di minaccia. Uno, due, tre, via. Quel personaggio di cui oggi purtroppo ancora si sa ben poco. Un personaggio che è a botto nel mistero più recondito che esista e a tempo stesso un personaggio che non può non passare inosservato. Ma tutti i telespettatori di Dominica Inn sanno di chi sto parlando, di Mark Caltagirone, di Mark Caltagirone. Ora, non so se tutti lo sanno, ma questo personaggio non si sa se sia effettivamente esistito oppure no. Sta di fatto che potremmo considerarlo come un personaggio abbastanza discutibile per quanto riguarda la situazione di YouTube Italia. Grazie, una buona serata o una buona giornata a voi, cari utenti di YouTube. Ecco, questo è un video di omaggio, di grande ammirazione nei confronti di Klaus Davi, visto e considerato che molti miei fan mi hanno chiesto di fare una imitazione di questo masmediologo e personaggio che appartiene alla TV italiana. Grazie a tutti, tale Andro, conoscitore italiano di YouTube Italia e tutto, iscrivetevi se vi va, commentate, complimenti e forza sempre al grande Klaus Davi.